L'Università degli Studi di Sassari apre per un giorno le porte alla scienza. Lo fa grazie alla tanto attesa notte dei ricercatori. Notte solo nel nome, dato che l'evento si è svolto in giornata, sotto un ottimo sole con un grande successo di pubblico, da adulti a bambini. Organizzata dall'UNIS in collaborazione con il progetto Sharper Night, finanziato dall'EU, la manifestazione ha proposto nel padignone nel quadrilatero di Viale Mancini numerosissime attività riguardanti la scienza, tramite gazebo appositi e con attività pratiche per spiegare meglio la materia di turno. Diversi temi della scienza affrontati, dalla biologia all'astronomia, dall'anatomia animale a quella marina, dall'astrofisica all'elettrotecnica, passando per le tecnologie del futuro. Ma tra tante tecnologie del futuro a riscuotere molto successo tra i giovani sono state le macchine storiche di Guglielmo Marconi, come il rocchetto di Rumrkopf o il generatore di Tesla. Presenti, oltre alla Sharper, anche associazioni come la Scienza Arena, che ha presentato al pubblico il già noto visore della realtà virtuale, un oggetto dall'atmosfera molto futura, ma già di uso attuale in molti paesi europei, soprattutto per le situazioni di soccorso. Da non ci si è fermati alla tecnologia e alla natura. Si è dato spazio anche allo svago e al divertimento, quello analogico. Uno dei padiglioni, infatti, è stato dedicato al gioco da tavolo, di ruolo e di genere fantasy, molto appetito dai cosiddetti nerd. In un'epoca dove intelligenze artificiali e videogiochi con caschi per la realtà virtuale stanno prendendo il sopravvento, così si è dimostrato che il futuro è anche frutto della mente umana. Insomma, una grandissima giornata in cui il successo è meritato e ha simulato elementi di molti giovani, ma anche di molti adulti che solitamente non si interessano alla scienza.